Buongiorno a tutti quanti, felice Halloween, da tanto tempo volevo fare questo speciale di Halloween e tra tutti i film che ci sono a tema, magari un Nightmare Before Christmas, oppure un Coral Eye nella Porta Magica ce ne sono di film che potrei fare, ma tra tutti questi ho scelto le avventure di Ichabod e Mr. Todd adesso non mi ricordo mai come si pronunci però, vabbè dai Ichabod facciamo così, la mia pronuncia inglese comunque fa cagare vabbè, accettatela per quello che è, comunque questo è un film che mi ha lasciato molto da pensare e adesso prima di iniziare voglio dire una cosa, allora, non mi sto mostrando oggi perché ho avuto un piccolissimo incidente ma niente di grave, per fortuna, soltanto che in questo momento ho la testa un po' fasciata quindi magari, vabbè, poteva anche essere un perfetto travestimento per Halloween però preferisco evitare, dai diciamo così, preferisco evitare di farmi vedere, anche se sarebbe perfettamente a tema comunque, iniziamo adesso con il film questo qua è un film, come si dice, composto da vari episodi uno di quei film antologici usciti a ridosso o in questo caso nell'immediato della fine della seconda guerra mondiale all'epoca la Disney aveva tantissimi progetti, spassi qua e là soltanto che non usciva a pubblicizzarli, a pubblicarli tutti quanti anche perché non dei episodi abbastanza brevi quindi sono cicciati fuori molti film e episodi come può essere Bungle, Tre Aventurieri, Tre Caballeros Musica Maestro, Fantasia e tanti altri ecco, le avventure di Chabod e il Mr. Todd scusate se ogni tanto mi scappa i Chabod ma sarebbe i Cabod, vabbè quel che sia comunque, questo qua è uno dei quei tanti film a episodi e prevede come unico tema portante il racconto di due personaggi straordinari della letteratura uno americano e uno della letteratura inglese da notare innanzitutto che il titolo Le avventure di Icabod e Mr. Todd pone l'eroe americano, poiché siamo in America davanti a quello inglese che sarebbe Taddeo Rospo che è tratto dal racconto Il vento tra i salici mentre per quanto riguarda il film vero e proprio succede il contrario cioè Il vento tra i salici è il primo racconto ad essere narrato mentre La leggenda della valde l'alimentata che sarebbe appunto Le avventure di Chabod arriva come secondo episodio fatto molto curioso, devo dire però, vabbè sicuramente questo non è un problema per quanto mi riguarda nel frattempo io sto armeggiando qua perché ok, per lavoro devo fare anche dei documenti mi sono arrivato adesso comunque adesso voglio parlare innanzitutto di questi due film anzi, due film due racconti di questo film e partirò esattamente come lo si può vedere nel film il film fra l'altro non dura neanche tanto dura poco più di un'ora quindi è una durata media per quanto riguarda un classico Disney dell'epoca mediamente tutti duravano così e il primo punto è il vento tra i salici ovvero le avventure di Mr. Todd che sarebbe Taddeo Rospo il personaggio che ho mostrato anche qua nell'immagine è un protagonista molto particolare diciamo così è un orrospo come si può dedurre che praticamente è un maniaco di qualsiasi tipo di frivolezza appena lui vede qualcosa che sia apparentemente figo lui lo deve comprare lui è un multimiliardario possiede una villa molto costosa ha tantissima disponibilità economica soltanto che lui cede tantissimo alla tentazione di comprare vari oggetti che hanno l'unico scopo di farlo divertire e per via di questi di queste spese inutili poi lui sta per finire sull'astrico tant'è vero che tanti ne parlano in questo in questo villaggio e gli unici che riescono ad essere vicini in questo momento sono i suoi amici tra cui Tassus McTass che gli fa da contabile adesso vediamo se mi viene dove è che sono tutti i vari personaggi ecco qua Tassus McTass che è il tasso perché qua gli animali sono effettivamente quello che che rappresentano cioè Taddeo Rospo è un rospo Tassus McTass è un tasso che è l'anziano tasso che gli fa da contabile poi c'è Topus Waterrat che è un un topo appunto pensavo Ratton invece no è un topo che nonostante sia molto severo un po' come Baghera nei confronti di Taddeo comunque è un suo amico e sta sempre dalla sua parte è molto leale quando sbaglia non si fa problemi a chiedere scusa e il suo miglior amico invece è Talpino Sweet Mellow che appunto è una talpa e che è dolcissimo molto ingenuo e anche lui se non ci fosse Topus un pochino lascia intendere che si lascerebbe anche lui un po' corrompere da Taddeo nelle sue bravate loro sono gli amici che gli sono sempre stati vicino a loro si aggiunge anche Cirillo Bersedere che è un cavallo che Taddeo conosce all'inizio del film e da quel momento i due diventano inseparabili il film parla appunto di questo Taddeo che dopo aver speso tanto vede un oggetto che diventa il suo ultimo oggetto del desiderio ovvero un'automobile qua siamo in un'epoca in cui ci si spostava a cavallo al momento il cavallo era l'unico mezzo di trasporto abbastanza figo per chi voleva magari stare al passo con i tempi soltanto che a un certo punto Taddeo vede un'automobile e vuole comprare quest'automobile ma cade vittima di un inganno infatti quest'automobile che lui vuole comprare e che effettivamente riesce a comprare è un'automobile rubata a rubarla sono un gruppo di donnole e il testimone che doveva testimonare in favore Taddeo ma che poi in fase di processo gli si rivolta contro è il cattivo del film che adesso vado a mostrare che si chiama il signor strizza l'occhio eccolo qua che ovviamente è la prima cosa che fa quando entra in tribunale è strizzare l'occhio a Taddeo perché questo volta faccia perché senza l'occhio si scopre essere il vero capo di questa organizzazione che ha rubato l'automobile e in seconda battuta ha sfruttato l'ingenitalità di Taddeo per far ricadere tutta la colpa su di lui infatti Taddeo per questo finisce in prigione perché nessuno crede che effettivamente Taddeo abbia scambiato tutta la sua villa una villa abbastanza importante composta da tante stanze per un'automobile però questo era l'accordo che era anche scritto sul contratto ma come detto prima in fase di processo strizzare l'occhio che era il testimone dell'affare anziché deporre in favore di Taddeo cambia la sua versione e fa impigionare Taddeo ma nonostante questo le donole comprese lo strizzare l'occhio prendono comunque possesso della villa di Taddeo che si chiama Villa Rospo grazie a Cirilo Bersedere Taddeo evade la cacere insieme ai suoi amici Talpino Tasso e Topus si recono tutti quanti a Villa Rospo per cercare il contratto in modo da poter provare che l'affare che Taddeo ha compiuto è esistito per davvero e che quindi il vero colpevole non è Taddeo che ha rubato l'auto ma le donnole effettivamente sono state proprio le donnole a rubare l'auto non viene detto esplicitamente ma viene dato per scontato e strizzare l'occhio in quanto complice probabilmente pagherà anche lui per questo reato allora questo primo racconto che ovviamente finisce con il letto fine è anche uno dei pochi racconti per quanto riguarda tutta la filmografia Disney che è tratta da un romanzo esistente e di cui le differenze sono davvero pochissime se non quasi nulle ci hanno aggiunto ovviamente la canzone la Merrily Song quella siamo felici felici felice 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 quella che canta Taddeo all'inizio che ovviamente non c'era nel romanzo adesso non mi ricordo se ci siano personaggi effettivamente inediti forse ce n'è uno che dovrebbe essere appunto il cavallo Circo del Belcedere ma non ne sono sicurissimo perché io non ho mai letto il vento tra i salici però comunque è un racconto estremamente bambinesco tutto quanto ti richiede una sospensione dell'incrudità a livelli estremi ed è anche uno dei pochissimi racconti in cui si può vedere adesso come detto prima ogni animale è quello che rappresenta Taddeo rospo è un rospo topus è un topo eccetera le donne sono donne ma senza l'occhio è un uomo vero e in questo racconto infatti ci sono persone vere o esseri umani che interagiscono con gli animali e non soltanto gli animali interagiscono tra di loro parlando ma addirittura ci sono anche tante scene in cui un essere umano parla con un animale e viceversa se ci facciamo caso anche negli aristogatti o ad esempio la carica del 101 si possono vedere diverse scene in cui ci sono gli esseri umani che parlano tra di loro gli animali che parlano tra di loro però non si vede mai un animale parlare con un essere umano o viceversa le poche eccezioni sono allora il libro della giungla che ho già citato prima perché c'è Mob lì che parla con gli animali e gli animali parlano con Mobli mi pare che ci sia anche prima le avventure bianche anzi le avventure bianche berni e seguito bianche berni cos'era come si chiamava secondo classico mamma mia un voto di memoria bianche berni e la terrelle cangure adesso mi è venuto in mente mamma mia sto avendo dei vuoti di memoria incredibili ultimamente colpa dei miei impegni musicali ma vabbè questo è un film che fa parte appunto di queste eccezioni in cui gli animali parlano tra di loro gli esseri umani parlano tra di loro ma gli esseri umani e gli animali parlano interagiscono anche in maniera incrociata ecco un altro esempio che mi è venuto è la serie animata timone pumba in giro per il mondo si proprio dare leone timone pumba perché lì loro parlavano tra quegli altri animali ma parlavano anche con gli esseri umani infatti lì mi ricordo che il cattivo era il signor quinte che era un essere umano a tutti gli effetti ma comunque tornando al film il film la butta tantissimo in cacciare tantissime scende azione sono condite di tante gag alcune delle quali verranno riprese successivamente per terza volta lo cito dal libro della giungla ad esempio la scena in cui tutti i vari personaggi si contendono il contratto viene ripresa da Baloo e le scimmie che si contendono mogli proprio le scene sono identiche però è un segmento perché non parlo di film è un segmento che io non riesco tanto a detestare ecco c'è da dire una cosa su questo segmento questi film che contengono appunto tanti segmenti indipendenti che poi sono stati uniti per realizzare un unico lungometraggio poi con l'avvento delle videocassette sono anche state distribuite separatamente ovvero c'è la videocassetta della collana i mini classici che magari pubblicava soltanto la leggenda della valle addormentata da solo però e io ho visto anche quando ero piccolo la videocassetta che riguardava soltanto il segmento del 23 salici per tanti anni ho cercato questo film prima di imbattermi appunto nelle avventure di Cabo e Mr. Todd però questo 23 salici ne parlavano davvero in pochissimi pochi su internet conoscevano questa videocassetta e dico ma è una videocassetta Disney come è possibile che non ci sia quasi traccia di questa videocassetta di questo racconto c'erano quegli animali tutti belli però nessuno ne parlava poi casualmente quando ho fatto l'abbonamento con Disney Plus ho recuperato le avventure di Cabo e Mr. Todd e lì ho ritrovato il segmento dell'evento 3 salici e ho detto ah ok quindi era finito qui dentro però quando l'ho rivista ho detto sì effettivamente è quello che mi ricordo però non era proprio esattamente quello che mi ricordavo c'era un doppiaggio diverso e soprattutto alcune scene proprio mi sembravano completamente saltate fuori da nulla io certe scene proprio neanche me le ricordavo e mi chiedevo ma è possibile che magari mi sia completamente rimosso di certe scene perché dopo l'introduzione in cui c'è Tasso che spiega agli amici di Taddeo che sono Topus e Talpino la nuova mania di Taddeo ovvero cavallo la scena successiva io mi ricordavo che si passava direttamente a Taddeo che scorazzava sul cavallo e che si imbatteva subito in Topus e Talpino mentre quando poi l'ho rivisto recentemente c'è la canzone che ho citato prima la Mary Lee Song siamo felici 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 quella lì e anche finale a un certo punto Taddeo vede che il contratto sta per finire dentro il camino infuocato Taddeo riesce a recuperare questo contratto però poi c'è un'altra scena sempre di di combattimento in cui i protagonisti cercano di scappare dalla fure dalle donnole e poi si ritrovano nelle scale che conducono in questo caso gli permettono permettono di uscire dalla villa tramite un passaggio sotterraneo però tutta quella scena che ho citato adesso in cui loro cercano di scappare io non me la ricordavo era una scena che personalmente proprio dico ma è possibile che questa scena qua che è anche realizzata molto bene io non me ne ricordavo proprio per niente cercando poi su varie su varie documentazioni qua su internet ho capito perché io non me la ricordavo semplicemente perché la collanda ai mini classici che aveva anche un doppiaggio diverso infatti questo doppiaggio che è molto recente infatti tra i doppiatori ci sono Mino Caprio che sicuramente non era così attivo in casa Disney nella prima parte degli anni 90 perché la videocassetta era degli anni 90 poi vedo anche Roberto Pedicini che è il PM durante il processo Taddeo tutti questi personaggi Fabrizio Vidale che era strizza l'occhio tutti i doppiatori bravissimi che però sono abbastanza relativamente recenti non me ne ricordavo io questi doppiatori nella videocassetta che avevo visto io che non è mia ma me ne avevano fatta prestare una mia cugina comunque e ho scoperto che per l'edizione dei miniclassici avevano tagliato tantissime scene e infatti la voce di Taddeo era quella del doppiato di paperone aspetta come si chiama il doppiato di paperone adesso cerco qua rapidamente aspetta perché c'è sul punto della lingua lo vado semplicemente sulla pagina in DuckTales avventure di paperi nel doppiato di paperone era Gigi Angelillo ecco non mi ricordavo era lui che doppiava Taddeo e anche gli altri personaggi avevano un doppiaggio diverso e quindi ho scoperto che per quell'edizione lì avevano tagliato tante parti e avevano fatto un loro doppiaggio quando poi hanno pubblicato successivamente l'avventura di Cavoli e Mr. Todd perché non è arrivato subito in Italia ma è arrivato dopo l'edizione dei miniclassici loro stavano anche pensando di poter utilizzare quel doppiaggio ma c'erano tantissime scene tra cui la canzone e il Mary Lee Song che non erano state doppiate e quindi a questo punto hanno deciso proprio ma si dai facciamo un ridoppiaggio totale questo segmento e quindi io facciamo uscire così e questo spiega appunto questa mia confusione quando l'ho rivisto recentemente effettivamente ha senso anche perché tutta la parte dell'introduzione del narratore esterno effettivamente non c'era perché lì partiva direttamente con la parte appunto del 23 salici mentre la prima introduzione la parte di raccoglio tra i due racconti non c'era né nella videocassetta del 23 salici né in quella della leggenda della valdormentata e quindi aveva completamente senso ridoppiare tutto quanto tutta questa prima parte che si proprio dico è molto bambinesca ripeto bisogna sospendere tanta tante incredulità e tantissime cose bisogna farsi andare bene è l'unica maniera che sia per potersi godere questo classico che secondo me è un classico carino ma nulla di più ma adesso passiamo al secondo racconto la leggenda della valle addormentata che parla appunto dell'avventura di Icabod Crane che è questo personaggio questo maestro di scuola con il naso estremamente appuntito e questo personaggio qua anzi questo segmento qua a differenza del precedente mantiene nel classico che hanno poi lo famoso lo stesso doppiaggio che aveva nella collana dei mini classici con una piccola differenza che però dirò dopo infatti quando si passa a questo racconto il narratore che sta raccontando appunto i due racconti singolarmente cede praticamente il doppiaggio a un secondo narratore che è il narratore appunto del doppiaggio originale dei mini classici che gli subentra e racconta lui tutta quanta la storia praticamente anche in questo caso il racconto non è tanto diverso anzi qua mi pare che non ci siano per niente dei cambiamenti per quanto riguarda la leggenda della valle dormentata anzi io l'ho letta la leggenda della valle dormentata però non mi pare ricordare dei cambiamenti importanti forse sono io che ho una memoria di merda però potrebbe anche essere che una volta tanto hanno deciso di mantenere il racconto originale perfettamente coerente come con i vento dalle sarci quindi questo classico punta tanto su questo sulla fedeltà sui racconti originali e questo qua è una leggenda che parla di un piccolo paesaggio di coloni olandesi che vedono nel loro paesaggio un burlone Brom Bons che ho già citato in un video precedente che è un matacchione lui si diverte a fare un bulletto a prendere un po' per il culo gli altri perché è molto possente molto muscoloso anche qualche vaga la somiglianza con Gaston della belle baeste infatti poi hanno ammesso che Gaston si ispira parzialmente a lui e di fatto Brom Bons è uno che si scherza tanto però è anche disposto a farsi perdonare non è uno solitamente abbastanza rancoroso si prende pericolo gli altri ma si fa anche amare in certi momenti si fa perdonare ecco più che amare si fa perdonare poi però arriva Icabod Crane che è il protagonista lui ha dei modi di fare estremamente da gentiluomo Brom Bons si vede minacciato da Icabod Crane perché lui effettivamente con i suoi modi di gentili riesce a far si amare molto più di lui e soprattutto la goccia che è fatta boccare il vaso è quando Icabod Crane mette gli occhi su Catrina Catrina che si chiama Vantassa se non ricordo male come si chiama si Catrina Vantassa e praticamente Brom Bons si lascia tanto in gelosire che vuole vendicarsi appunto di Icabod soltanto che tutti i suoi scherzi volti a umiliare di fronte a Catrina non vanno a buon fine però dall'altra parte Icabod che è un maestro che si fa molto male sia dai suoi luni che dalle mamme ha un secondo fine cioè non è proprio un un santo lui di fatto ci tiene a Catrina soprattutto perché lei è figlia di un ricco proprietario e quindi spera di poter ereditare anche la sua ricchezza economica anche per grazie un po' di fortuna Icabod che riesce sempre a vera meglio finché durante la notte di Halloween si scopre che Icabod ha una debolezza ovvero è uno abbastanza superstizioso e a questo punto Brom Bons ne approfitta per raccontare la leggenda della valle addormentata con una canzone e sfida Icabod Crane ad attraversare il bosco nel quale secondo la leggenda si manifesterebbe il fantasma senza testa i cavalieri senza testa lui racconta che c'è questo cavaliere che ha una zucca posta della testa che si va a combattere contro chiunque osi avventurarsi in quel bosco in quella specifica notte con l'unico scopo di prendere la testa da sostituire la sua testa di zucca però l'unico metodo di salvezza che è raggiungere un ponte che a quanto pare è un ponte magico secondo cui chi riesce ad attraversarlo si salva dal cavalier senza testa i cavalier per non perdere la faccia di fronte a katrina accetta questa sfida si reca in questo bosco e viene raggiunto dal cavalier senza testa nasce un scontro tra i due in cui i cavalier continuano a tremare e scappare e al termine di questo scontro il fantasma senza testa sembra davvero meglio spoiler vince il cavalier senza testa allora tanto cambiamo immagine questo è un racconto perfettamente pertinente con Halloween quindi è per questo che ho scelto questo classico da raccontare per Halloween questo personaggio è molto ma molto suggestivo anche grazie al doppiaggio quello dei anni 90 dei mini classici anzi in realtà per i cavalier senza testa hanno mantenuto il doppiaggio originale degli anni 40 americano e devo dire che questo classico prima qualche informazione tecnica ha una particolarità ovvero il racconto viene tutto quanto raccontato dal narratore il narratore che dà la voce anche ai cavalier crane e succede anche una cosa particolare quando c'è la canzone di Brombos in cui parla dell'agenda del cavalier senza testa succede una cosa che penso che sia l'unica volta che accade in un classico Disney ovvero si sente la canzone originale in americano ma con il narratore che in italiano parla senza cantare traducendo in italiano appunto il significato della canzone cavaliere senza testa tutto qui è molto particolare questo perché non si è mai visto in un classico Disney questa cosa qua però devo dire che dopo tutto mi è piaciuto tanto questo classico quando ero piccolo perché questo qua comunque l'avevo già conosciuto quando ho visto la videocassetta della collana mini classici mi lasciava molto perplesso perché semplicemente come ho detto poco fa praticamente qua il protagonista perde a vincere è cattivo perché cavaliere senza testa è considerato un villain a tutti gli effetti così come Brombonse e il protagonista muore quando ero piccolo non capivo perché il protagonista di un cartone animato dovesse morire cioè è il protagonista dovrebbe vincere perché muore crescendo ho capito che sì come ho detto prima il Cabot Crane non è uno stinco di santo lui di fatto sì era tratto da Katrina perché era bella ma anche perché era ricca forse tra lui e Brombonse quello che aveva un amore più sincero poteva essere realmente Brombonse che effettivamente alla fine del film riesce a sposare Katrina però adesso arriviamo al finale al finale c'è anche una questione di cui ho già accennato in questo canale tempo fa ovvero ma alla fine Brombonse e il Cavale di Senza Testa sono la stessa persona è Brombonse alla fine quello che tira fuori questa leggenda il Cavale di Brombonse assomiglia tantissimo a quello del Cavale di Senza Testa e quindi la domanda è non è che la fine il Cavale di Senza Testa che si vede all'interno del bosco sia proprio Brombonse sotto mentite spoglie avrebbe avuto un vario motivo avrebbe combattuto e ucciso il suo rivale in amore avrebbe avuto proprio tutti i motivi del mondo per poter essere lui l'artefice di questa sparizione di Cavale Crane lasciando intendere comunque agli altri invitanti del villaggio che in realtà era il fantasma era semplicemente uno spirito ad aver ucciso il maestro e non lui effettivamente avrebbe avuto anche una scusa perfetta gli altri ci avrebbero creduto perfettamente e qua c'è anche da dire una piccola cosa che volevo dire anche prima ma ho uscito per adesso nel doppiaggio originale quello dei mini classici il narratore al fine dice che correva voce che Icobod Crane non fosse morto perché al fine dopo questo scontro con i cavalieri senza testa Icobod Crane proprio non lo si vede più scompare e quindi Katrina non vedendo più l'uomo che amava si mette insieme a Brombonse e lo sposa secondo le voci Icobod Crane invece si sarebbe trasferito da un'altra parte e avrebbe sposato un'altra un'altra donna e secondo il doppiaggio originale però i colonni non ci credevano a questa versione nella versione del classico ovvero con i due episodi messi insieme al narratore originale a questo punto subentra dal secondo narratore che dovrebbe essere Michele Calamera che a questo punto sovrascrive la versione originale e dice ma i colonni olandelli si rifiutavano di credere a questa versione perché sapevano tutti che Icobod Crane era stato portato via dal cavaliere senza testa e infatti questo dà un senso all'ultima scena che vede appunto il cavaliere senza testa che cavacca il suo cavallo in maniera quasi trionfale come se avesse vinto mentre nel doppiaggio originale non si capiva perché ci mostrassero appunto il cavaliere senza testa così alla fine e il classico termina con la ripresa della canzone del cavaliere senza testa soltanto che nella versione dei miniclassici era soltanto una versione strumentale mentre qua nel ridoppiaggio nel ridoppiaggio parziale invece hanno mantenuto anche la stessa canzone americana del cavaliere senza testa e quindi lasciava intendere che alla fine avesse vinto effettivamente il cavaliere senza testa e che il cavo Crane fosse morto ma la questione ritorno adesso alla questione ma è Brombos che ha finito ucciso oppure è stato il vero cavaliere senza testa nel racconto originale pare che questo dubbio fosse stato ulteriormente legittimato perché nei racconti nel romanzo praticamente veniva quasi a sottointendere che Brombos fosse potesse essere l'artefice di questo omicidio anche se pure lì non danno mai la certezza completa però la pulce nell'orecchio la mettono potrebbe essere lui oppure no boh e anche quando è classico anche se in maniera un po' più come si dice un po' più attenuata viene lasciato comunque questo dubbio potrebbe essere lui l'assassino oppure no se fossimo guardare la scheda di Brombos lui è considerato un cattivo a tutti gli effetti e tra i suoi crimini viene anche preso in considerazione un possibile omicidio quindi forse volutamente hanno lasciato aperto questo dubbio però boh ci sono anche i limiti che invece possono dimostrare che lui non sia il cavalli senza testa che vediamo che insegue a inseguire Icavod perché a un certo punto Icavod guarda dentro l'armatura del cavalli senza testa e non ci trova un essere umano gli poteva essere l'occasione per far capire che potesse essere Brombos ma ci trova del fuoco quindi lascia intendere che quello fosse effettivamente lo spirito anche se questo potrebbe anche essere una un piccolo trucco cinematografico che non ci mostra quello che effettivamente accade ma ci mostra quello che vede in quel momento il punto di vista di Icavod Crane è talmente spaventato che a questo punto vede fantasmi e spettere ovunque un po' come accadeva con Biancaneve nella scena in cui cadeva in cui dopo che il cacciatore diceva che la regina stava inseguendo che voleva uccidere lei corre nel bosco spaventata e vede i mostri anche dove non esistono potrebbe essere una come si dice un come si può dire una scelta registica che si riconduce proprio a quello ovvero non è quello che ci mostra non è quello che accade ma quello che Icavod Crane crede di vedere delle lucidazioni potrebbe anche essere quello il dubbio comunque è molto aperto il film non ci cresce tutto il racconto originale a sua volta non è che ci dà tutte queste spiegazioni è un film molto aperto che lascia spazio tantissime interpretazioni e penso che sta allo spettatore scegliere a cosa credere sa di fatto che comunque la scena è molto suggestiva molto spaventosa per quanto mi riguarda e secondo me è di ben tre scalini sopra il primo racconto del 23 salici questo qua proprio un segmento che può vedere tranquillamente anche un adulto e secondo me non escludo anche l'ipotesi che un adulto potrebbe spaventarsi nel vedere quella scena lì alla fine e questo è un raccolto che cade nell'ambientazione a ridosso di Halloween e quindi per questo ho voluto raccontare le avventure di Cabo de Mr. Todd adesso spazio qua che chat si ho scelto proprio un momento come sempre ma scusatemi ma ho proprio dei momenti inusuali per le mie live infatti qua vedo soltanto due commenti vado a leggere il primo allora si a me è piaciuto molto soprattutto la seconda parte ecco secondo me proprio per i motivi che ho spiegato io ovvero che il film forse anche in contraposizione con la prima parte che era molto bambinesca questa seconda parte che è molto che si prende molto sul serio anche abbastanza adulta te lo fa apprezzare molto di più secondo me anche per quello e soprattutto non ha un finale buonista perché molti dicono eh ma Alice magari riesce a dedulcorare tanto i suoi racconti riesce a far vincere sempre i protagonisti in questo caso no il protagonista perde probabilmente muore però il legittimo dubbio lo lasciamo sempre e vediamo un altro commento ah niente mi saluta semplicemente ciao ciao grazie per seguirmi ma ecco devo dire una cosa in conclusione secondo me se ci facesse un live action della seconda parte dell'agenda della valle addormentata secondo me con la cga di oggi con la tecnologia di oggi potrebbe uscire anche una bella figata non lo escludo però potrebbe uscire qualcosa di interessante è anche un racconto che si è data tantissimo in un film secondo me un semplice segmento è anche abbastanza specato potevano giocarci molto di più ecco soprattutto in questo racconto in questo segmento non ci sono dialoghi mi sono dimenticato forse di dire ma non ci sono dialoghi tutto quanto viene raccontato dal narratore lui che dà la voce a tutti quanti a parte la canzone però è molto interessante secondo me per questo racconto in particolare funziona benissimo ecco con questo qua io vado praticamente in chiusura non ci sono altri commenti mi hanno commentato soltanto in due ma vabbè soltanto uno era pertinente l'altro semplicemente saluto che per carità a me fa sempre piacere i saluti e vabbè mi scuso per non farmi vedere oggi ma davvero non me la sento dimostrarmi in pubblico ma grazie comunque a chi recupererà questa live che ricaricherò su youtube e ci si becca alla prossima volta ragazzi au revoir e ci si becca a chi a chi Grazie a tutti.